Mi chiamo Andrea Zulian, ho 52 anni, vengo da Varese e ho valutato varie parti d'Europa per fare l'intervento e quella che mi è sembrata più, come si dice, seria e tecnicamente capace mi ha dato fiducia dal dottor Palmas come si proponeva sui vari social e sono andato in fiducia. Per l'organizzazione mi sono trovato bene già dal primo giorno, anche l'alloggio non posso dire niente di che, tutto ottimo. Ho fatto la riabilitazione totale, mi hanno tolto 27 denti, avevo problemi di piorrea, ho messo le protesi e adesso ho fatto il lavoro finale, dopo 5 anni perché ero in ballo dal 2018, poi per problemi i miei privati e la pandemia è sliettato tutta quest'anno. Avevo la mia dentatura, adesso non so precisamente quanti erano comunque, una ventina sicuramente e tutti dondolanti. Il primo intervento erano tutti soddisfatti, in primis io, perché potevo tornare a sorridere, quindi è stato un bel miglioramento, avrei tenuto le protesi provvisorie per lungo termine. Sento bene, poi ho avuto anche la fortuna di capitare in mano a due medici molto esperti, non ho sofferto dolori, non ho avuto rigonfiamenti particolari, già anche dal primo intervento non ho mai subito, non ho preso neanche medicinali. Sì, se qualcuno avesse bisogno di un intervento così delicato consiglierei sì di venire qua. Grazie di tutto. Grazie.